Si tratta di un progetto che rientra nell'ambito delle attività della sottomisura 16.9 del PSR Sicilia. Sono fondi europei a regia regionale, in questo caso gestiti dall'assessorato regionale all'agricoltura. Il progetto nasce dall'idea di diversificare le attività agricole in attività extraagricole che possono dare un sostegno economico anche alle aziende coinvolte all'interno del partenariato di progetto. È un progetto di cooperazione, all'interno ci sono diverse aziende agricole, ci sono delle cooperative sociali, ci sono tutte società e associazioni specializzate in attività che riguardano gli ambiti della sottomisura che ricordiamo trattasi di agricoltura sociale, quindi occorre focalizzare l'attenzione molto su quelli che sono i soggetti svantaggiati, sui bambini, sui disabili, sugli anziani e su tutti quei soggetti che a qualunque titolo hanno bisogno di supporto, di sostegno e di attenzione più particolare da parte di una società civile. Il progetto riguarda tre forme di educazione, quella ambientale, quella alimentare e quella sociale. Ci saranno dei laboratori che coinvolgeranno tutti i soggetti svantaggiati e questi laboratori verteranno sulle tre tematiche che ho appena detto. Il coinvolgimento delle aziende e di specialisti del settore darà quel tocco in più, quel valore in più al progetto per raggiungere pienamente gli obiettivi di progetto stesso. Ricordiamo anche che nei prossimi mesi sarà pubblicato il calendario esatto di tutte le attività che saranno previste con l'involgimento dei partner. Oggi sono qua a partecipare all'avvio di questo progetto in rappresentanza dell'amministrazione Marino. Con molto piacere ho partecipato a questa iniziativa che parte dal finanziamento di una rete di aziende da parte della regione siciliana col PSR. La sottomisura è la 16.9 che si occupa di agricoltura sociale. Oggi abbiamo visto tutte le aziende che fanno parte di questa rete. Sarà un progetto che andrà a colpire diverse fasce dai bambini alle persone con disabilità alle aziende agricole. Quindi si parte con un progetto di rete tra queste varie aziende e associazioni che ci permette anche nel territorio comunale di Cicli di poter avere un servizio per queste persone e dare l'esempio ai piccoli bambini che parteciperanno per poter far sì che questi possano essere agricoltori del futuro. Siamo felici di poter far parte di questa rete del progetto Impara Agricoltura. Finalmente iniziamo una bella iniziativa che ci trova in rete con altre realtà locali di cooperazione sociale e anche di aziende agricole. Ovviamente parliamo di agricoltura sociale e questo è per noi un modo anche per dare delle risposte anche a chi vuole avvicinarsi all'agricoltura, soprattutto ai bambini, quindi da un punto di vista educativo ma anche da un punto di vista terapetico coinvolgendo anche le comunità con disabilità ed altre realtà. La nostra cooperativa è relativamente recente, noi operiamo nel territorio di Cicli da circa sette anni e appunto ci occupiamo di servizi all'infanzia a 360 gradi, quindi da attività ludico-ricreative, proponiamo ai minori e ai bambini attività ludico-ricreative, terapeutiche e riabilitative, ovviamente in vari contesti. La nostra partecipazione al progetto, noi abbiamo sposato appunto la partecipazione a questo progetto perché noi partiamo dal presupposto che il bambino impara di più e meglio facendo, sperimentandosi, mettendo di fatto le mani in pasta, quindi proprio sperimentando con tutto se stesso quello che andrà ad imparare il progetto che ci è stato proposto ai partner, le aziende che ne fanno parte, mirano tutto a questo obiettivo, dall'orto sociale, dal progetto con i cavalli, insomma, l'ipoterapia, appunto in tutti questi progetti il bambino comunque si sperimenta personalmente, non c'è una lezione didattica frontale, ma piuttosto impara facendo. E questo è il principio che abbiamo sposato, il principio di cui partiamo nel nostro lavoro di tutti i giorni.